Salve a tutti e benvenuti sul mio canale il brand francese wiko torna all'attacco e lancia sul mercato il nuovo power u30 un nuovo smartphone di grandi dimensioni ed ha una grande batteria prima di andare avanti invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video saluto come sempre gli amici di digitabili.blog e i gruppi telegram malati di smartphone e malati di smartwatch facciamo un unboxing veloce e vediamo questo troviamo all'interno della confezione confezione in cartone riciclato troviamo lo smartphone poi troviamo delle cuffie due tutto che sono veramente ottime le ho provate si sentono veramente bene sono carine una buona durata e un buon ascolto audio in chiamata sono mediamente buone poi troviamo i classici libretti delle istruzioni sempre il materiale riciclato troviamo spillino per l'ivano sim troviamo caricabatterie purtroppo non rapido quindi un caricabatterie da 15 watt non rapido ma non rapidissimo cavo di ricarica usb tipo c e un altro cavetto usb tipo c per ricaricare le cuffie una confezione abbastanza ricca però non troviamo una cover in silicone per proteggere lo smartphone dovete comprare la parte wiko power utranta è uno smartphone davvero enorme le dimensioni sono di 173,8 per 78,6 per uno spessore di ben 9,45 mm è un peso di 214 grammi quindi se parliamo di maneggevolezza non è il massimo se invece vi piacciono gli smartphone grandi questo wiko fa proprio per voi il fattore che forse mi ha stupito di più è veramente la sua qualità costruttiva la scocca è in metallo e la parte posteriore è in plastica una bella grafica triangolare protetta da una finitura che non trattiene nessuna impronta bello anche il blocco delle fotocamere che per fortuna non sporge troppo dalla scocca analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra il tasto google che attiva l'assistente vocale abbiamo il bilanciere del volume abbiamo il tasto di accensione e spegnimento nella parte sinistra troviamo il vano sim che può spittare due nano sim più una micro sd nella parte inferiore troviamo il microfono troviamo la portata tipo c e lo speaker audio di sistema che purtroppo è solamente mono nella parte superiore troviamo il jack audio da 3,5 mm nella parte invece posteriore troviamo oltre al blocco il blocco delle fotocamere troviamo lo sblocco dell'imposto digitale che è preciso ma non velocissimo come potete vedere ci impiega un secondo più o meno per attivarsi quindi diciamo che è un sblocco nella media non è ottimo lo schermo di questo wiko power o 30 è un ampio 6.32 pollici di diagonale con risoluzione hd plus 720 per 1640 pixel se devo essere sincero la qualità del display mi ha davvero sorpreso la resta dei colori e della luminosità davvero buona il limite di questo display è la risoluzione che non è altissima che si può notare per esempio quando si eseguono dei videogiochi o si guardano foto e video l'hardware di questo power u30 è ovviamente quello di un base gamma abbiamo un processore helio g35 octa core di mediatek con gpu img ge 8320 il tutto è sopportato da 4 gb di ram e 128 gb di memoria interna espandibile tramite micro sd abbiamo la connettività 4g il wifi n il bluetooth 4.2 e il supporto al dual sim quello che manca nel complesso è il chip nfc l'audio è mono e la qualità del volume dello speaker è nella media power u30 è dotato di tre sensori fotografici il principale è una 13 megapixel supportata da una 2 megapixel per l'effetto bokeh è una qvga per gestire meglio la luce solo il sensore principale è davvero quello utile mentre gli altri servono solo a gonfiare la scheda tecnica le foto nel complesso sono sufficienti con buona luce invece la gestione dei colori è imperfetta con meno luce i dettagli calano rapidamente e la modalità notturna è obbligatoria il selfie sono scattati con una fotocamera da 8 megapixel sono poco definiti ecco colori un po spenti l'anno invece di video vengono registrati in full access hd però mancano di stabilizzazione come per tutti gli smartphone wiko anche in questo caso abbiamo un software android 11 molto pulito aggiornato con le patch sicurezza al giugno 2021 all'interno del software troviamo funzionalità come la modalità gioco la gestione di navigazione e la modalità ad una mano il lancer è un wiko lancer che offre un po di funzioni ma porta con sé anche qualche notifica pubblicitaria di troppo ma fortunatamente si possono disattivare la fluidità comunque è sufficiente la batteria è una gigantesca 6000 mAh l'azienda parla di 4 giorni raggiungibili con uso leggero con uso intenso si possono raggiungere tranquillamente i tre giorni la ricarica è da 15 watt sufficiente ma non velocissima il prezzo ufficiale di questo wiko power o 30 e di 199 euro ma si può trovare a molto meno cercando sui vari siti online vi lascio qui sotto in descrizione qualche link per oggi è tutto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel ciao ciao Grazie a tutti.